E' uno dei tormentoni sanitari degli ultimi anni in oltre po' pavese e nonostante le rassicurazioni dell'azienda sociosanitaria territoriale di Pavia, complici le incertezze dettate dalla pandemia, tenerlo aperto rimane una delle priorità delle amministrazioni comunali che si succedono negli anni. Stiamo parlando del punto nascita o meglio del reparto di ostetricia dell'ospedale unificato di Broni Stradella, chiuso ormai dal marzo scorso, ovvero dall'inizio dell'emergenza Covid e accorpato con quello di Voghera. La riapertura annunciata da SST a fine estate, quando la pandemia sembrava ormai poco più di un brutto ricordo, però è stata rimandata, di nuovo a data da destinarsi, a causa del riacutizzarsi della crisi sanitaria e dell'inizio della cosiddetta seconda ondata, tuttora in corso. La lenta ma costante diminuzione dei pazienti ricoverati nel reparto di medicina, oggi sono 12 contro gli oltre 40 di novembre, ma i residenti a Stradella soltanto 4, l'arrivo del vaccino pur tra mille difficoltà e non da ultimo l'avvicendarsi in regione degli assessori al welfare Giulio Gallera e Letizia Moratti hanno convinto il sindaco di Stradella Alessandro Cantù a prendere carta e penna e a scrivere proprio a Letizia Moratti una lettera in cui chiede garanzie chiare sulla riapertura di tutti i reparti al momento in stand-by e soprattutto proprio di questo. L'attenzione dei sindaci sulla questione non è casuale, nonostante le rassicurazioni a più riprese da parte di ASST Pavia infatti, il mantenimento di un punto nascite deve soddisfare alcuni requisiti di sicurezza di base dettati dalla regione, primo fra tutti un minimo di 500 parti all'anno.